Nel 92% dei casi analizzati l'acqua dei mari calabresi è pienamente conforme a quanto disposto dalle leggi, un risultato che posiziona la Calabria al nono posto in Italia tra le regioni che si affacciano sul mare. Il dato emerge dai contenuti del report 2013 sulle condizioni del mare presentato a Catanzaro, realizzata una vera cartella clinica delle acque, effettuati 1788 esami chimici, fisici e tossicologici. Il mare calabrese non sta proprio male, sicuramente può stare meglio e noi utilizzeremo questi elementi avendo a disposizione questi elementi che ci fanno una radiografia pezzo per pezzo della costa calabrese ci indicano quali sono i punti critici per migliorare lo stato qualitativo delle acque di balneazione ma nello stesso tempo questa cartella clinica ci offre la possibilità di essere bussola di orientamento per gli interventi che la regione Calabria deve mettere in campo. In merito alla segnalazione relativa a schiume e chiazze avvistate soprattutto sul versante tirrenico è stato spiegato che la totalità dei campioni prelevati hanno confermato che il fenomeno appartiene ad un meccanismo biologico e fisico legato alla presenza di nutrienti, azoto e fosforo che viene esaltato da temperature e ventilazione. Tutto questo provoca la proliferazione di alghe, un fenomeno non bello ma innocuo sottolineato che sono state 907 le segnalazioni pervenute nel corso della stagione estiva al numero verde attivato dalla Task Force del servizio SOS Pronto Intervento per il mare istituito dall'assessorato all'ambiente della regione Calabria in collaborazione con ARPACAL e Direzione Marittima Regionale.